Dopo varie indiscrezioni è arrivata finalmente la conferma, il noto reality GF VIP 4 non terminerà più verso la fine di aprile 2020 come previsto. Ad apprendere la decisione degli autori del programma sono stati i propri concorrenti ancora in gioco nella giornata di ieri. Gli inquilini sono venuti a conoscenza che a causa dell'emergenza coronavirus che ha colpito tutto il mondo la trasmissione chiuderà i battenti in anticipo. Le seguenti sono alcune delle parole presenti nel comunicato ufficiale letto da Adriana Volpe, Fabio Testi e Antonella Elia. La situazione in cui siamo in Italia è incredibile e unica, mai accaduta prima. La gente a casa vive in mille modi diversi, c'è preoccupazione ma anche tanta voglia di vivere. Le persone vogliono sorridere e condividere le loro emozioni. Il pubblico vi ama e segue la vostra storia. Il GF VIP ha deciso di chiudere all'inizio di aprile tornando alla sua configurazione iniziale. Mentre per molti concorrenti è ancora troppa l'angoscia per i propri familiari e per la dura realtà del Covid-19, Fernanda Less ha scatenato la furia di alcuni compagni di avventura e del popolo del web, affermando. Così rientro in gioco e posso arrivare fino alla fine. L'uscita infelice della modella brasiliana ha fatto infuriare soprattutto Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver e Sossia Ruta che hanno commentato alla seguente maniera. Non è questo il modo di comportarsi. Il reality show intanto saluterà i telespettatori il mercoledì 8 aprile 2020 vista l'emergenza sanitaria e lo stato in cui versa l'Italia. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.